Benvenuti in questa lezione di scalabile legato al social media plan. In realtà è molto riduttivo chiamarlo social media plan, perché qui si tratta proprio di creare dei contenuti in modo intelligente che stanno diventando, dal mio punto di vista, dalla mia esperienza, legata al marketing, di fondamentale importanza. Per tutta una serie di motivi che ti voglio spiegare qua. Allora, qual è l'ostacolo numero uno che tendiamo ad avere? E questa è una tipologia di contenuto che, sappiate, io farò girare su tutti i clienti che noi seguiamo, perché è un aspetto che mette in difficoltà tanti imprenditori. L'ostacolo numero uno è che tutti quanti noi, a volte, o meno, perlomeno, molto spesso, si è teso, e nel passato anche noi, a pensare che il flusso marketing commerciale sia molto lineare. Quindi magari entri con una mail, poi ricevi un'altra mail, poi ricevi la telefonata, ti invio la mail di recupero, un'altra mail e magari faccio la vendita. Nell'altra dei fatti, ragazzi, non è più così. Questo, per quanto è un modello che noi stessi in passato abbiamo passato, in realtà, si è ridotto come apice della piramide, nella piramide di conversione, solo come la parte alta dei lead, ma in realtà dei fatti è molto diverso la dinamica di quello che succede agli utenti quando noi vogliamo comunicare e cercare di migliorare i processi commerciali. Quello che fondamentalmente succede è che le persone entrano dentro un'arena, dentro un cerchio che noi abbiamo creato, e che più un muro ha alto di contenuti, di situazioni, più lo teniamo dentro, e più lui gira all'interno e più facilitiamo quello che è il contatto commerciale di preparazione. Tant'è vero che quello che una volta veniva passato come funnel lineare, ora è veramente quasi diventato un cerchio dove il funnel, perlomeno il funnel di acquisizione lead, viene utilizzato come canale di acquisizione e contatti da buttarli dentro quest'arena qua. Più voi utilizzate lead, retargeting, conversioni, per portare dentro quest'arena di contenuti, più le persone potranno realmente conoscere quello che facciamo e realmente affidarsi a ciò che noi vogliamo vendere. Perché la percentuale di persone che riceverà un funnel, magari guarderà o meno un pdf o un contenuto, che verrà chiamato al commerciale, chiuderà in vendita, è diventato un aspetto molto più complicato. Quindi quello che succede è che l'obiettivo finale oggi avviene se c'è questa arena che dobbiamo creare. Qual è quindi l'obiettivo dei contenuti? È molto semplice. Quello che noi cerchiamo è colmare quel gap che abbiamo tra un potenziale cliente e noi imprenditori, marketer, per dire guarda vieni da me a comprare. Ma tra noi e loro c'è un gap importante. Quello che sta a noi creare è creare questa serie di creazione di un ponte che sono contenuti. È esattamente questo che dovete cercare di immaginare, da creare e alimentare nella vostra macchina di crescita. È la creazione dei contenuti, dove ogni contenuto è come se fosse un pezzo del puzzle, un elemento del puzzle. E in questo percorso il potenziale cliente potrebbe andare avanti, poi tornare indietro, perché non è pronto, potrebbe arrivare fino qua, poi tornare indietro. Ma se noi creiamo questo ponte, diamo possibilità alle persone di poter arrivare da noi. E quindi, questo per darvi un esempio di come potrebbe essere un ponte creato da post su LinkedIn, magari video su YouTube, la newsletter settimanale, delle guide che portano un po' più specifiche, un workshop live, un prodotto completamente su misura. Questo per quanto in inglese è esattamente, per esempio, quello che noi utilizziamo in alcuni canali, ma che facendo ora e iniziando a fare anche partnership con voi, è quello che è solito proprio, cercando di creare. Quindi post, newsletter, guide, workshop, incontri live o meno, e poi procedure. E dall'altra parte, una volta che avete testato un canale che vedete che è più funzionale, cos'è che si fa nel tempo? Si va a sviluppare da un ponte agile, a farlo diventare più robusto, a farlo diventare veramente un qualche cosa di più strutturato. Dal motivo per cui, per darvi un riferimento, lo scorso anno, rispetto, per esempio, a fare nel company, ho speso, io credo, un decimo di ads di conversione, ci siamo molto più concentrati nella creazione dei contenuti, e abbiamo fatto fatturati e ovviamente profitti superiori a una società che aveva già un brand tutto suo. Quindi, per darvi un riferimento, questo è quello che stiamo esplodendo, aumentando, perché abbiamo già fatto esplosione. Quindi, quello che voglio passarvi come messaggio, è che quando ragionate per contenuti, ragionate per elemento di ponte. A questo punto entriamo nel nostro mondo. Passato questo concetto, qual è l'elemento fondamentale? Che nella nostra macchina di crescita, vi ricordo che esistono quattro leve di contenuti, quattro e mezzo, se si mettiamo i commerciali. La prima leva è quella dei funnel, di conversione, di cui una parte arriva ai commerciali e vanno in vendita, ma la percentuale, sappiate che non sarà molto alta. secondo i contenuti, TOFU e MOFU, quindi a livello di funneling, su un livello diverso, che vengono fatti in modo evergreen, in modo professionale, perché sono quelli che gireranno perenemente nella nostra rete, piano editoriale, e contenuti di marketing automation in base al funnel. Queste quattro leve, uno, due, tre e quattro, sono le quattro leve che fanno sì che venga costruito questo famoso ponte di cui vi parlavo. Ok? Che serve su tutti i vari livelli del funnel. Quindi, questa è un po' la macchina di crescita, se vogliamo, un po' graficizzata, è una cosa che ho voluto fare proprio per renderla un po' più visibile. E qui è dove, una volta fatta la trattativa commerciale, andiamo a concentrarci sui risultati per il cliente, a fare customer care, a dare massimo impegno per dare una soluzione completa e ovviamente a trattare il cliente con altri prodotti di altro genere. Ma se fate caso, una buona fetta della scala del valore è fatta realmente da una serie di creazioni di contenuti per vendere un'idea che ancora non c'è legata al prodotto. Qui siamo nel sistema operativo scalabile, che è la tipologia di livello tre che abbiamo noi nel metodo scalabile, ma è una parte che viene fatta in un secondo tempo. Qui siamo nella fase proprio di marketing della macchina di crescita dove già catturare l'attenzione con tutto un insieme di consapevolezze creare, tutto un insieme di funnel di conversione aiutano quello che è questo processo di creazione dei contenuti. Questo per rimandare un po' alla metodologia che ormai chi mi conosce da un po' sa molto bene. Da dove si parte? Beh, si parte innanzitutto l'analisi del target, quindi capire bene chi è il target e considerate, lo ribadisco sempre, che non c'è mai un solo target, ce ne sono almeno quattro, a volte perché siamo, a volte perché abbiamo più prodotti, a volte perché lo stesso prodotto può essere declinato su quattro tipologie di target o a volte perché lo stesso messaggio lo puoi diversificare. Però questo è quello da cui si parte, quindi la persona, gli interessi, quali sono gli elementi d'acquisti, quali sono i problemi e paure, quali sono i desideri e obiettivi e come era prima che era nel ponte, come cosa succede dopo che è arrivato al ponte, dopo che è arrivato a noi, che cosa gli è successo. Questo è molto utile a livello di copy come tipologia di elemento. E andiamo quindi nella parte, nel cuore che volevo passarvi a livello formativo. Come possiamo fare, qual è la cosa che voglio implementare nel 2024 in maniera importante legata a questi contenuti? Con questa metodologia, uno, contenuti che vanno a toccare i tre livelli del funnel, top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Quindi questo è un concetto, direi, abbastanza assodato. Vengono definiti dei contenuti sulle nostre tipologie di metodologia che sono legati quindi alla consapevolezza, alla coinvolgione, alla conversione in base a certe situazioni, ma qui è l'esplosione totale. Cioè, questo è lo schema che ho implementato proprio per definire quali sono i contenuti che vorrei fossero fatti quando viene sviluppata la strategia di marketing. E ci sono interviste per raccontare storia, false credenze, cinque consapevolezze, trend di mercato, ve li faccio vedere meglio qua. Lato tofu, per esempio, i contenuti che vi invito caldamente a fare sono innanzitutto la storia personale, perché comunque alle persone piace sapere un po' chi c'è dell'azienda, il dietro le quinte, il racconto dell'imprenditore, per quale motivo fai quel mestiere, perché lo fai e tutto a questa serie di situazioni. Cinque false credenze che sono, vanno a toccare elementi importanti legati alla propria attività, perché sono quello che noi diamo per scontato, ma in realtà dei fatti molto spesso non lo è. Cinque ricerche di consapevolezza, nel senso che le ricerche che puoi fare con l'intelligenza artificiale o magari su Google o magari su altri canali ti portano a identificare una serie di situazioni, si scelgono quelle di consapevolezza, quindi un livello alto, proprio la cosa basilare, ok? Facciamo un esempio nel fotovoltaico potrebbe essere, ma il fotovoltaico conviene? Ecco tre cose che devi sapere, oppure le false credenze del fotovoltaico. Poi trend e statistiche, specialmente chi ha nel business B2B, è molto interessante, dall'altra parte fornire delle ricerche che adesso tra l'altro con l'intelligenza artificiale secondo me è anche più semplice andare a trovare perché ti danno degli input con dei dati anagrafici, dei ragionamenti su cui fare. Questi sono quattro tipologie di contenuti molto utili che puoi fare in fase TOFU. In fase MOFU per esempio ci sono invece cinque contenuti di ricerche ma più pratiche, è come fare A, come ottenere X, è la classica tipologia di contenuto che si trova su YouTube molto utile ma è uno dei livelli. Se puoi cerca di mostrare e non solo dire utilizza contenuti dove quali sono i problemi che hanno il mio target cosa che hai chiaramente trovato e analizzato qua in questa fase qua e quindi a questo punto di vista problema agitazione del problema soluzione è call to action. Cosa vuol dire? Potrebbe essere una cosa tipo molto probabilmente non sai da quale fornitore poter acquistare i tuoi prodotti merchandising durante un evento o una fiera e questo ti crea chiaramente caos a volte hai sprecato soldi hai beccato delle sole e non vuoi più che accada questo. La soluzione è fare un check up che ti permette di fare la cosa quindi noi esattamente la metodologia che tu rispiamo se vuoi fare questo clicca qua ok ora l'ho fatta molto molto chiaramente sintetica sono contenuti che possono durare dai 3 ai 5 minuti ma che vanno a toccare proprio le problematiche dell'utente parlano alle persone un altro contenuto moffo è differenziarsi dal mercato perché se siamo su questo livello qua vuol dire che le persone sono già consapevoli che hanno un problema e quindi dobbiamo marcare la differenza rispetto ai nostri competitor e non dobbiamo dire che siamo i migliori non occorre i numeri 1 sono un po' di supercazzole che secondo me sono un po' sappassate nel marketing però marcare la differenza quello sì noi siamo differenti per questo motivo qua questo aiuta molto in questo livello del funnel e l'ultimo è gli errori più grandi che puoi fare magari marcando la call to action può essere una tipologia simile al problema però il concetto è lo stesso gli ultimi contenuti che dovete portare da casa quando fate uno schema del genere sono i bofu dovete avere sicuramente dei contenuti di conversione diretta che potete mettere in retargeting per dire ok se ci segui da un po' la cosa migliore è consultare la nostra esperienza fa una consulenza con noi ti porterà questo 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 quindi compila il form bla 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 diretti qui si va proprio in vendita che è una cosa completa o vendita o R1 quindi richiesta attiva che se ci pensate è una cosa molto diversa da questi contenuti qua che sono chiaramente a un livello di consapevolezza completamente diversa ma chi è qua non ne vuole più sapere di contenuti che come fare a ok dimmi voglio parlare con te fammi sapere se effettivamente sei la mia soluzione quello che sto cercando ok un altro contenuto che mi invito caldamente è quello di benvenuti nei social quindi uno generico dove ovviamente si facerà per youtube ma potreste farlo anche direttamente sui social dove date benvenuto in questi contenuti faremo questo bla 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 e lo potete bloccare in alto sia su youtube sia su facebook ma anche su linkedin nel primo riquadro in alto sopra i contenuti e quello potrebbe essere praticamente un video di benvenuto altri sono proprio dei delle video sales letter dove vanno a vendere quello che voi avete deciso nello strategico dei funnel e degli R1 quindi sono i classici che vanno a promuovere le video ads che vanno a promuovere il funnel del caso quando avete queste tipologie di contenuti qua ragazzi avete veramente creato una base di intenti veramente ragionata sensata su chi si trova qua su chi si trova qua o su chi si trova qua e questo vi aiuterà molto a creare questo fantastico ponte di cui vi parlavo per avvicinare le persone al vostro mondo di cui vedete sicuramente il marketing si sta spostando tanto in questa direzione questo vi aiuta anche tanto perché tutti i contenuti Tofu e Mofu allenano i due cervelli che possono esserci nel mondo digitale del marketing oggi il primo è quello del branding cioè una persona ti abbina a una determinata situazione ma il secondo è proprio aiutate l'intelligenza artificiale dei motori di ricerca a capire meglio qual è il vostro contenuto quindi il vostro target e quando farete delle campagne Bofu di conversione avrete dei costi per i più bassi cosa che adesso invece la gente ancora spara un po' ad cazzo una volta fatto questo viene tutto inserito dentro un piano editoriale con un pad che viene abbinato ai vari canali che avete deciso di intraprendere si fa la schermata del mese e poi si distribuisce basta non è che c'è da fare grandi cose si distribuisce e si inizia a condividere ma la cosa figa è che nel momento in cui avete fatto un contenuto magari un video per YouTube in realtà ve lo girate anche su LinkedIn ve lo utilizzate anche per Facebook ve lo utilizzate anche per Instagram quindi riuscite a modellare fate un contenuto in modo intelligente riuscite a poterlo sfruttare magari anche tagliandolo creando dei read degli shorts anche per quello che riguarda altri canali questo vi porterà ovviamente ad analizzare i post i pad e quello che è vi porterà a creare quell'arena fondamentale che dal mio punto di vista oggi è vitale per fare realmente marketing come si deve e quindi a creare quel ponte che decinerà a voi gli imprenditori quindi mi auguro che con questa lezione vi sono arrivati degli spunti interessanti per ragionare sui contenuti che vi servono nella vostra azienda nella vostra realtà per fare marketing efficace se vi deve rimanere un solo concetto è questo qua se vi deve rimanere un solo concetto è oggi i clienti potrebbero arrivare direttamente senza passare dai funnel contattandovi in direct mail o contattandovi su LinkedIn direttamente perché sono figli di un insieme di contenuti questo è quello che dobbiamo creare con questo direi di aver chiuso la mia lezione spero di averti dato valore inerente alla Christe2Business e ci vediamo nella prossima lezione